Giovanizaro, secondo te che partita è stata? Ma è stata una partita che penso abbiamo approcciato bene sin dall'inizio, abbiamo avuto qualche occasione nei primi minuti, non siamo riusciti a sbloccarla e come tante altre partite che magari siamo riusciti a sbloccare, e poi abbiamo portato fino in fondo, oggi è stata più difficile, un po' di sfortuna, un po' meno brillanti, magari noi ci sta anche comunque, veniamo da un periodo davvero tosto, pieno di impegni, e anche oggi grazie Dio non abbiamo preso gol, quindi siamo contenti, ci è mancato qualcosina, però penso che faccia parte comunque del percorso di un campionato comunque di livello che stiamo facendo, dove da adesso in poi tutte le partite saranno così, dobbiamo saperci adattare comunque alle caratteristiche degli avversari, e continuare così, perché anche oggi penso che la prestazione della squadra sia assolutamente positiva. Qualcosina che mancava, come hai sottolineato, è il gol? Beh, chiaramente è il gol, noi penso come tutte le altre partite ci abbiamo provato dal primo minuto fino all'ultimo, anche gli ultimi dieci minuti comunque abbiamo messo pressione agli avversari, e oggi sì, è mancato solo quello, però ci portiamo a casa un punto, una prestazione positiva, e la consapevolezza che la squadra c'è presente anche oggi ha dimostrato il suo valore. E subito sotto a preparare il trento? Assolutamente, non c'è un giorno di riposo, non c'è niente, quindi da domani testa al trento, un'altra battaglia, ancora più importante probabilmente anche per l'ambiente, per i nostri tifosi, e quindi cercheremo di dare il massimo già da domani. Grazie.